Siamo con Don Attilio nostro che Papa Francesco ad agosto ha nominato Vescovo di Mileto Nicotera Tropea in Calabria. Don Attilio grazie di essere con noi. Grazie a voi. Dalla nomina di Papa Francesco alla messa di ordinazione episcopale a San Giovanni in Laterano a Roma. Cosa c'è in mezzo? Qual è il suo stato d'animo? Quali sono le emozioni personali? Alla sorpresa che è arrivata il 12 di agosto si è aggiunta una sorpresa ulteriore. Mi sono reso conto che il Papa intendeva farmi entrare prima possibile in questa diocesi perché poi abbiamo avuto questa sorpresa meravigliosa del 10 di ottobre. Abbiamo scoperto tutti quanti, non soltanto io, che ci attendeva a questa data della beatificazione di Don Mottola. Quindi io sto facendo tutto in maniera molto veloce proprio perché il 2 ottobre faremo l'ingresso in diocesi a Mileto e la settimana dopo il Cardinal Semeraro ci farà questa grande gioia di venire a nome del Papa, lui che è capo del di Castero dei Santi, ci farà questa gioia insieme a Monsignor Oliva che ha fino ad oggi amministrato la diocesi sede vacante, di beatificare Don Mottola, questa figura splendida di sacerdote che appartiene non solo a Tropea ma adesso a tutta la Chiesa Cattolica. È una figura molto sentita. Molto, molto sentita. Io già quando ero ragazzo, io sono del 66, lui è morto qualche anno dopo, sentivo parlare di lui da tante persone che andavano lì a confessarsi e non mi spiegavo come potesse confessare lui che aveva una difficoltà enorme con la parola, ma con i gesti, con lo sguardo, con le espressioni del viso. Lui riusciva a comunicare non soltanto la misericordia di Dio ma anche a dirigere tante anime che si sono rivolte a lui e che attraverso di lui hanno scoperto la vocazione. Tanti dei sacerdoti di quella diocesi sono proprio figli di Don Mottola ma anche il ramo femminile, tante figlie di Don Mottola che sono nate dal suo sacrificio e dalla sua dedizione. Quindi entrerà subito nel vivo? Immediatamente, senza soluzione di continuità. Ma i suoi parrocchiani qui a Roma come hanno appreso tutto questo? Come lo stanno vivendo questo momento di transizione? Lo stanno vivendo come un lutto, vero e proprio, perché sono molto gioiosi e orgogliosi del fatto che il loro parroco sia stato scelto da Papa Francesco. Questo li riempie sicuramente di orgoglio. Però ovviamente ho visto tantissime lacrime in questo periodo perché in questi sette anni abbiamo condiviso tanto cose belle e cose meno facili ma è stata una condivisione vera di una comunità viva e quindi soprattutto tante vecchiette che mi hanno ringraziato per essere ritornati alla fede dopo tanto tempo in occasione magari di un funerale, di un congiunto, di una persona cara che le aveva lasciati e in quel momento hanno sentito una parola di speranza e di gioia addirittura. E invece in famiglia come la stanno vivendo questa attesa? Ma in famiglia è stata una cosa curiosa perché la cosa più simpatica è la reazione dei miei nipoti che mi hanno chiesto come mai mi devo vestire come Gandalf, il mago di Tolkien. E ho tentato di spiegare loro, si tratta di bimbi assai piccoli evidentemente, ho tentato di spiegare loro che in realtà quelle vesti sono vesti liturgiche e in qualche modo sottolineano anche lo stato diverso che non è più quello del sacerdote che già ha delle vesti sue proprie ma il vesco rappresenta qualcosa di più, non è semplicemente un parroco è un parroco dei parroci, è un servo dei servi di Dio e quindi si sottolinea attraverso questi segni il fatto che lui occupi un posto particolare che è poi il posto degli apostoli. Per lei è una specie di ritorno a casa visto che è nato da quelle parti a Palmi in provincia di Reggio Calabria? Esattamente, a pochi chilometri dalla diocesi c'è la casa dove sono nato perché io sono nato in casa a Palmi appunto ed è bellissimo perché questo dopo 36 anni di vita qui a Roma rappresenta per me un ritorno a casa. Credo che il Papa in maniera determinante abbia tenuto conto di questo nella ricerca e anche nella scelta di un sacerdote da mandare lì ed è stato per lui più facile sceglierlo tra i parroci di Roma. Io lo vedo come un segno anche di grande comunione e di attenzione da parte del Papa perché il Papa segue molto da vicino le vicende della Calabria e privarsi di un parroco in qualche modo è un segno di come il Papa prenda molto sul serio questa situazione che la Calabria sta attraversando. Senta, per chi non la dovesse conoscere come la descriverebbe la sua diocesi? Non la conosco benissimo, conosco alcuni sacerdoti, conosco alcune parrocchie, alcune comunità perché di tanto in tanto sono andato a celebrare per andare a trovare questi sacerdoti che conoscevo però è una diocesi fatta da più o meno 175 mila abitanti molti, moltissimi di questi sono emigrati in Canada, in America, in Australia, in altre parti del mondo anche in Germania, però la cosa più straordinaria, più particolare di questa diocesi è un unicum, credo una delle diocesi che ha più vocazioni perché sono 130 sacerdoti e questo segno proprio del fatto che non solo Don Mottola ma anche Natuzza, ma anche la gente perché anche Don Mottola è figlio di quella terra, non ha soltanto generato come padre Natuzza, è figlia di quella terra, non è soltanto madre Natuzza ma è segno del fatto che quella terra è una terra che ha una grande fede. Senta, quanto è importante la conoscenza piuttosto ravvicinata, intima del territorio che si è chiamati a guidare, della diocesi che si è chiamati a guidare? Ma sicuramente mi aiuterà il fatto di essere di origine calabrese, il fatto di avere una cultura che conosce molto da vicino queste realtà, la cosa bella è che stando in Calabria è molto più facile rispetto a una grande città avere contatto per esempio con delle persone che vivono a contatto con la terra, per cui per me è stato fondamentale soprattutto quando ero bambino il contatto con il contadino che viveva accanto a casa nostra e mi ha insegnato delle cose della terra che sono una sapienza antica, una sapienza che rischia di perdersi, per cui a me farà piacere entrare in contatto con i contadini, con le persone che stanno valorizzando questa terra e che stanno producendo da questa terra delle cose meravigliose, che però sarebbe bello valorizzare ulteriormente, sviluppare ulteriormente, ma è la nostra una cultura sostanzialmente di contadini, di pescatori, di letterati, di persone che appunto fanno del lavoro una sapienza che speriamo diventi anche una sapienza cristiana. Per lei quanto contano gli input di Papa Francesco che chiede in continuazione ai pastori di impegnarsi ad esempio a cercare vie nuove per l'annuncio del Vangelo? È bellissimo il discorso molto paterno che lui ha fatto ai sacerdoti di Roma, io non sono andato perché non faccio più parte del clero di Roma dal 12 di agosto, ma è stato bellissimo il fatto che lui abbia detto che la parrocchia non può essere un'elite, un club per pochi, deve essere una famiglia con le porte aperte, una famiglia che accoglie anche le persone che magari hanno qualche difficoltà con la fede o con la Chiesa. Io l'esperienza che ho fatto soprattutto a San Mattia, ma anche a San Giudo Taddeo, bellissima, è stata proprio quella dei funerali, una realtà dove nessuno scommetterebbe, invece quello è il momento in cui tante persone lontane sono, ahimè per loro, costrette a confrontarsi con una fatica enorme, insopprimibile che è quella del lutto e lì improvvisamente scoprono che essere cristiani, credere nella resurrezione, è una chance in più, un'occasione in più che il Signore ti dà per abbracciare un giorno i tuoi cari, ma anche per abbracciare la tua vita presente e quindi io spero che nelle parrocchie della mia diocesi ci sia questa accoglienza, anche e soprattutto dei lontani, delle persone che magari hanno avuto qualche difficoltà con la fede. Io mi sono avvicinato alla fede proprio perché avevo qualche difficoltà con Dio, non viceversa. Che tipo di difficoltà aveva? La difficoltà è stata proprio la morte di mio fratello, che è nato e morto nell'arco di quattro mesi e la difficoltà grande è stata proprio questa, che dopo il funerale di mio fratello ho fatto un solenne giuramento che non sarei mai più entrato in chiesa. Ecco, sarebbe un giuramento da non fare, perché poi si diventa fisico. Evidentemente. Tutto questo di cui stiamo parlando, la parrocchia dalle porte aperte e anche le finestre aperte, ha detto Papa Francesco, si riflette nel sinodo fortemente voluto da Papa Francesco che prevede una prima tappa proprio a livello diocesano, cioè tutte le diocesi da aprile e da ottobre fino ad aprile 2022 dovranno aprire un sinodo diocesano. Ecco, lei cosa farà? Ovviamente obbedirò al Papa, ci mancherebbe altro, però la peculiarità di questa diocesi è che la diocesi di Milleto viene fuori da tre anni di sinodo e quindi un impegno enorme che è stato già profuso, quindi io la cosa che voglio sentire anzitutto è mettermi in ascolto dei sacerdoti, in ascolto delle comunità e capire come questo lavoro già svolto e che riterrò chiaramente valido perché è stato frutto di un lavoro capillare, parrocchia per parrocchia, comunità per comunità, realtà per realtà, come si possa armonizzare con questa richiesta che il Papa ha rivolto ad ogni diocesi e che ovviamente accoglieremo anche noi. Dobbiamo capire in che forma, ascolterò per questo i pastori che sono più esperti di me nel luogo, ascolterò loro e sentirò che cosa mi consiglieranno di fare. Qual è il messaggio ai fedeli che l'aspettano? Ma mi piace molto, me l'ha detto una vecchietta, di lanciare lo stesso messaggio che ha lanciato San Giovanni Paolo II, se sbaglierò mi corrigerete, diceva lui, no? Ecco, io voglio sperare che questa sarà per me un'occasione di crescita, nella capacità di servire la comunità ma anche di crescere io come cristiano, prima ancora che come sacerdotico, come vescovo. Mi piacerebbe che la gente mi aiutasse a crescere, mi piacerebbe avere la complicità delle persone, anzitutto con la loro preghiera, anzitutto con il loro incoraggiamento, con la loro stima, sarà importante gareggiare a vicenda in questa stima reciproca, ma anche e soprattutto che mi aiutino a crescere, a capire come vogliono essere amati, perché sicuramente lo Spirito Santo non appartiene soltanto a me, ci mancherebbe, appartiene innanzitutto a tutta la Chiesa e sarebbe bello essere aiutato dai fedeli laici a capire come desiderano essere amati in nome di Dio. Prima di salutarci parliamo di un'altra figura di spicco a livello locale, ne accennavamo prima, a livello locale non solo, Natuzza Evolo, la mistica calabrese, Mamma Natuzza, sono due gli ambiti, Mamma Natuzza è così che la chiamano, sono due gli ambiti su questo settore, da un lato la causa di beatificazione di Natuzza e dall'altro l'inaugurazione, l'apertura al culto della Chiesa, cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime, voluta dalla stessa Natuzza e che mette fine ad una lunga e dolorosa vicenda che ha fatto soffrire tanto i fedeli locali. Ecco, aspetta a lei gestire questo passaggio. In realtà il grosso del lavoro, la parte, diciamo così, forte del lavoro l'ha già svolto l'amministratore. Monsignor Oliva, che ringrazio pubblicamente per il lavoro ottimo, equilibrato, saggio che ha fatto, ha già firmato questa convenzione con la benedizione del Papa, con il mandato del Papa, ha già firmato questa convenzione per cui una grande parte di questa difficoltà, di questa fatica, che questa dioce si sentiva di avere, in qualche modo è già cosa passata. Quello che resterà a me sarà proprio questo, come lei accennava, il fatto cioè di consacrare questo santuario, che è un santuario che per il momento sarà soltanto diocesano, ma negli intendimenti di tutti, siccome è visitato, è desiderato, è voluto, è stato incoraggiato addirittura da tutte le parti del mondo, speriamo che questo santuario possa diventare un punto di riferimento per tutti i pellegrini, per tutti coloro che hanno dentro il cuore questi stessi sentimenti che aveva Man Mano Tuzza, cioè di rifarsi a Maria, di rifarsi a Cristo come rifugio delle anime, come momento, realtà, come luogo, il cuore di Cristo è proprio questo, il luogo dove i fedeli possano trovare davvero ristoro e il riposo. Sarà un cammino non immediato, perché sicuramente non ci si mette niente ad aprire una chiesa, ma consacrarla è un'altra cosa, perché sicuramente quello che sta intorno ad un santuario, e cioè il culto, la devozione, ma anche la direzione spirituale, le confessioni, cose che ho visto e ho maturato in tanti santuari, visitando tanti santuari a Fatima, all'URD, c'è necessità di accogliere i pellegrini e di accoglierli con sapienza, non è una cosa che si può fare così a cuor leggero. Siccome abbiamo intenzione di fare con Don Michele, che è il nuovo rettore, disegnato dall'amministratore e voluto anche da me, con il nuovo rettore intendiamo fare un lavoro di approfondimento per capire come accogliere questi pellegrini, offrendo loro non semplicemente un'esperienza così momentanea, ma come un'esperienza che scriva nel loro cuore delle lettere a caratteri cubitali. Prima di chiudere, torniamo a Roma. Un pensiero alle persone presenti a San Giovanni per la messa e la sua ordinazione episcopale. A San Giovanni saranno presenti cinque comunità, rappresentate in maniera un po' ridotta, perché ovviamente abbiamo soltanto mille posti, quindi mi scuso pubblicamente per tutte le persone che però seguiranno in maniera comoda attraverso la vostra emittente, seguiranno questa celebrazione. Però sono rappresentate la parrocchia di San Pio X che mi ha accolto a Roma nell'85 e che è stata la mia prima parrocchia. E quella parrocchia è Don Giacinto e Don Paolo che mi hanno presentato al seminario romano quando sono entrato come sacerdote diocesano per la diocesi di Roma. La parrocchia di Santa Maria delle Grazie che mi ha accolto viceparroco nel 93 fino al 95. La parrocchia di Gesù Divino lavoratore nel quartiere Ostiense che mi ha accolto come viceparroco per altri sei anni. La comunità di San Giuda Taddeo che è stata la mia prima parrocchia, il mio primo amore, ma anche San Mattia possiamo dire che è stato il mio primo amore in questi ultimi sette anni. Per cui ho fatto tredici anni lì e sette anni a San Mattia ma tutte e cinque queste comunità saranno rappresentate da persone che hanno scritto nel mio cuore delle pagine che sono per me indelebili. Hanno messo delle tessere nel mosaico delle tante esperienze che adesso porterò con me e che regalerò. Tutti hanno scritto, ogni persona presente, hanno scritto nel mio cuore delle cose che difficilmente dimenticherò. Immagino, ci sarà anche qualcuno dalla Calabria che viene. Sì, ci saranno dalla Calabria tante persone, amici, parenti, compagni di classe, persone che hanno condiviso con me un pezzettino della mia vita che io desidero che condividano con me anche questa parte. Bene, grazie Don Attilio Nostro e auguri. Grazie a voi, grazie per il servizio che mi aiutate a rendere attraverso la vostra emittente. Grazie.